L'avrò tirata contro il muro, l'avrò salvata, lo scoprirai solamente andando a vedere il video su YouTube il canale Motor One, video nel quale ho partecipato, ero a bordo della GT3, la Porsche GT3 e anche della GTM, la Giulia Bellissime macchine Ti lascio qui in alto, a destra, il link del video Vattelo a vedere però prima, guardati questo, fammi sapere cosa ne pensi dell'ala mettimi un bel like, un bel commento e iscriviti al canale e attiva la campanella Quante ne vuoi Mattei? Quante? Buona visione! Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fermo. Grazie a tutti. 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 Perché? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.